I pazienti con fibrillazione triale che vanno incontro a un evento coronarico e quindi poi devono essere sottoposti a una procedura di rivascolarizzazione si trovano in una situazione molto critica perché devono assumere sia i farmaci anticoagulanti sia i farmaci antiaggreganti e questo li espone a un rischio di sanguinamento molto elevato. Qui a Parigi al congresso dell'ESC sono stati presentati in anteprima i dati di uno studio molto importante che si chiama Intrust AF-PCI che ha valutato l'utilizzo delle doxaban in questi pazienti con una posologia particolarmente diciamo così semplice da applicare. Noi ce li siamo fatti spiegare da un vero esperto dal dottor Andrea Ruboli. Dottor Ruboli innanzitutto di che studio si tratta? Che cos'è esattamente l'Entrust AF-PCI? Quindi quali erano le patologie che avevano questi pazienti e quali farmaci sono stati confrontati tra di loro? Lo studio Entrust AF-PCI è uno studio importante perché si focalizza su una popolazione molto particolare che negli ultimi anni è divenuto un oggetto di intense ricerche scientifiche cioè la popolazione con la fibrillazione atriale che per definizione deve assumere un farmaco anticoagulante orale per prevenire l'ictus. Popolazione però con fibrillazione atriale che viene sottoposta ad un impianto di stent coronarico a sua volta condizione che impone la terapia antipiastrinica e quindi la delicatezza di questa popolazione e la complessità gestionale è legata al fatto che siamo costretti ad utilizzare in associazione due tipologie di farmaci. Il farmaco anticoagulante orale per la prevenzione dell'ictus che per definizione aumenta il rischio di sanguinamento e uno o due farmaci antiaggreganti piastrinici che servono dopo l'impianto di stent coronarico per prevenire che a questo livello si formino dei trombi che a loro volta fluidificano il sangue e aumentano quindi il rischio emorragico. Sono tanti questi pazienti? La popolazione che assomma queste due caratteristiche è epidemiologicamente rilevante anche se va fatto un piccolo distinguo nel senso che la popolazione con la fibrillazione atriale che va incontro a un impianto di stent è circa il 5-10% di tutti i pazienti sottoposti a impianto di stent ma d'altro canto i pazienti che vengono sottoposti ad un impianto di stent in genere nell'ampito di un infarto e che poi sviluppano la fibrillazione atriale sono anche fino al 20%. Quindi insomma parliamo di tanta gente. Ecco che farmaci sono stati confrontati con quali schemi posologici? Nello studio Entrust e FPCI è stata disegnata una ricerca che era stata in larga parte condotta in modo analogo con gli altri tre anticoagulanti diretti quindi in precedenza degli studi analoghi su una popolazione analoga sono stati condotti prima con il Rivaroxaban poi con il Dabigatran e più recentemente con Apixaban. Mancava uno studio condotto con Edoxaban che è appunto l'Entrust e FPCI. La modalità di studio comprendeva un confronto di una cosiddetta duplice terapia quindi associazione di Edoxaban e un antiaggregante piastrinico confrontato con la terapia cosiddetta tradizionale la triplice terapia che include l'antagonista della vitamina K il Warfarin generalmente l'aspirina ed un altro antagonista piastrinico che si chiama inibitore del recettore P2Y12. Senta dottore ma l'endpoint primario era un end point di efficacia di sicurezza cioè qual era l'obiettivo dello studio? Cos'è che si voleva capire esattamente? L'end point primario come per tutti gli altri studi condotti in questo ambito era un end point di sicurezza cioè si ricercava se una duplice terapia facesse detto in parole abbastanza semplici sanguinare meno rispetto ad una triplice terapia quindi se con due farmaci si sanguinasse meno che con tre. Poi come obiettivo secondario era di valutare se con due farmaci si corresse un rischio eventualmente maggiore di sviluppare degli eventi avversi coronarici quali ad esempio la trombosi dello stento o addirittura un infarto del miocardio. Cosa ci hanno detto i risultati presentati in anteprima qui a Parigi? Quindi quali sono stati i risultati? I risultati hanno confermato relativamente alla sicurezza che era l'obiettivo primario che con due farmaci si sanguino meno che con tre farmaci e questo è assolutamente in linea con quanto è stato visto con tutti gli altri studi precedenti. La differenza se vogliamo che emerge ad una prima analisi di Entrust perché l'analisi dei dati più approfondita verrà fatta in un secondo momento dicevo una piccolarità che emerge rispetto a studi precedenti che la grandezza di questo beneficio è un po' minore rispetto a quanto osservato con altri studi ma in realtà un confronto di questo tipo non si può fare perché le popolazioni ruolate il dosaggio dei farmaci e la durata del follow up è diversa nei vari studi. Un altro elemento che emerge da Entrust e FPCA è quello relativo all'efficacia. Tutti questi studi non hanno le dimensioni adeguate per poter ritenere come definitivi i risultati relativi all'efficacia e sono quelli che comunque anche con due farmaci si ha un rischio di eventi coronarici trombosi dello stente e infarto paragonabile a quello con tre farmaci anche se una piccola tendenza vista in questo studio come in tutti gli altri che con due farmaci un minimo rischio superiore di eventi avversi coronarici sembra esserci anche se non raggiunge in nessun modo la significatività statistica. Per concludere qual è il take on message? Cos'è che possiamo dire al cardiologo pratico che poi si trova tutti i giorni a dover fare delle scelte di fronte ai suoi pazienti? I take on message che scaturiscono dall'Entrust e FPCA ma visto nel contesto di tutti gli studi ormai condotti in questo setting di pazienti secondo me si focalizza su due aspetti. Il primo aspetto da tenere a mente è che la duplice terapia è più sicura rispetto alla triplice terapia e quindi va sempre adottata però l'altro elemento da tenere in considerazione che emerge da Entrust in linea con tutti gli altri è che questa duplice terapia va iniziata al più presto possibile ma non troppo presto quindi per qualche settimana probabilmente ma questo è ancora da definire da due a quattro un iniziale periodo di triplice terapia è da raccomandare. Quindi per un periodo iniziale dicevo da due a quattro settimane l'aspirina va usata in associazione quindi va usata una triplice combinazione di aspirina, altro inibitore piastrinico e anticugulante orale. Successivamente dopo due al massimo quattro settimane l'aspirina va sospesa e continuata la duplice terapia.